Andrea Camilleri approda sul web con un inedito commissario Mondalbano alle prese con una insolita vicenda carica di quella tensione che ha decretato il grande successo del maestro Empedoclino. A pubblicare il racconto, appuntate dal titolo La finestra sul cortile a partire da sabato 28 giugno, sarà il quotidiano online a grigendonotizie.it, diretto dal giornalista Michele Scimè. È la prima volta che Camilleri pubblica un suo lavoro su internet, spiega Scimè, e siamo davvero onorati che il debutto sul web avvenga con il nostro giornale, un quotidiano della sua terra. Camilleri, prosegue Scimè, si è dimostrato ancora una volta personaggio di rara affettuosità e generosità, regalandoci, senza esitare un attimo, una delle sue perle. «Sono veramente lieto di pubblicare il racconto su aggrigendonotizie.it, un giornale giovane della mia provincia che sta crescendo in questi anni», spiega lo scrittore Andrea Camilleri. «Quando la redazione mi ha chiesto di pubblicare il racconto sul web, non ho esitato a dire di sì». «E per noi tutti di aggrigendonotizie.it», aggiunge l'editore Marco Alessi, «motivo di grande orgoglio ospitare una firma tanto prestigiosa di uno scrittore amatissimo ovunque dal quale siamo tanto affezionati. La pubblicazione del racconto di Camilleri costituirà certamente un momento di ulteriore crescita del giornale. Negli ultimi sei mesi, prosegue Alessi, il nostro quotidiano online si è affermato tra gli aggrigendini che adesso seguono con grande attenzione e partecipazione l'ottimo lavoro fatto dalla redazione. Sono certo, conclude il giovane editore aggrigendino, che grazie a Camilleri, di questo gli siamo davvero molto grati, saremo in grado di fare un ulteriore salto di qualità». «La finestra sul cortile», lo dice già il titolo stesso, è una citazione ed un doppio omaggio di Andrea Camilleri allo scrittore americano Cornel Woolrich, autore del racconto dal quale il grande regista Alfred Hitchcock trasse il celebre capolavoro cinematografico. Adesso la nuova opera di Camilleri su aggrigendonotizie.it